Ed, morta in un incidente stradale mentre si recava a una gara di ballo con le sue due bimbe. Improvvisamente ha perso il controllo del suo SUV e si è schiantata contro un terrapieno nel sud della contea di San Diego. Non indossava la cintura di sicurezza, e nell'impatto è stata catapultata fuori dall'automobile. Ed, morta prima dell'arrivo dei soccorsi. All'interno dell'auto distrutta c'erano le figlie Muxy, 9 anni, e Ruxy, 3. Dopo aver visto l'incidente, due ragazze si sono precipitate verso l'auto, mentre il gas fuoriusciva dal SUV, e hanno tirato fuori le bambine dall'auto mettendole in salvo fino all'arrivo dei soccorsi. Stiamo parlando della mamma star americana Bonnie Baumroth. Aveva 35 anni. Le due bimbe sono al sicuro grazie alle due eroine che le hanno aiutate a uscire dai rottami dell'auto, ha scritto la madre della vittima. Questa è stata una perdita sconvolgente per l'enorme comunità di persone che Bonnie ha toccato nel suo breve lasso di tempo qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.